E' stato sciolto il nodo del nuovo direttore sportivo della Pistoiese. Nella sede di vie delle Olimpiadi è infatti arrivato l'ex Siena Giovanni Dolci. A darne l'annuncio è stata proprio la società arancione attraverso un comunicato. Giovanni Dolci, si legge nella nota, assumerà l'incarico dal 1 luglio 2019. Dolci, nato a Carrara 51 anni fa, ha iniziato la carriera come osservatore alla Carrarese, poi ha operato con lo stesso ruolo nel sud Tirolo Alto Adige, dove è rimasto per tre anni prima di approdare alla Juventus e dopo a Madrid Sponda Real. Nel frattempo Giovanni Dolci si è laureato direttore sportivo a Coverciano con il massimo dei voti. In questa nuova vesta ha iniziato a lavorare a Viareggio, poi a Como in Serie C, insieme a Mauro Gibellini, indimenticato di essere della Pistoiese di qualche stagione fa. In riva all'Ario Dolci ha conquistato una promozione. Successivamente ha poi iniziato la collaborazione con il Siena, riuscendo a tornare in Serie C. Con i bianconeri ha disputato altre stagioni di alto livello. Con i bianconeri ha fatto un'azienda, riuscendo a tornare in Italia, riuscendo a tornare in Italia.